Con mister Marco Masi, mister non è andata bene, sconfitta interna contro la General Minio, cosa c'è da prendere da questo risultato? C'è da prendere che bisogna ripartire, è stata una prestazione inaspettata, abbiamo fatto confusione, noi nella confusione non siamo bravi, noi abbiamo fatto molta confusione e questo ha compromesso la prestazione e di conseguenza anche il risultato. Mister siete andati sotto subito dopo pochi minuti, però avete avuto grande forza di reazione. Forza di reazione sì, ma poco lucidi, non siamo stati in squadra, siamo sempre stati scollati tra i reparti, siamo stati dismiti, una prestazione brutta che è inaspettata e ovviamente bisogna lasciare da parte il rammarico, in qualche maniera ci siamo complicati la vita e ora sta a noi rimetterle tutto in carreggiata, se siamo un gruppo forte, se stiamo tutti insieme ce la possiamo fare, ma non bisogna ripetere queste prestazioni perché poi il risultato sì, poteva essere anche un pari che non scandalizzava nessuno, ma credo che abbiamo fatto tantissima confusione e quando c'è confusione più delle volte gli episodi ti condannano. Mister meno male, per la vita a dire, si torna subito in capo mercoledì? Non so se è un bene o un male, questo lo guarderemo mercoledì sera, ora c'è da leccarsi le ferite per tutta la serata e poi da domani si comincerà a pensare alla partita di mercoledì. Ripeto, c'è qualcosa che non mi quadra all'interno e questo va un po' analizzato bene perché non vorrei che alcune cose compromettessero un pochino il nostro campione. Grazie mille.